Tema rifiuti ancora al centro della discussione politica a Cerignola, soprattutto in vista dell'approvazione del bilancio nel Consiglio Comunale che si terrà il prossimo 24 aprile. Intanto il PD ha sollevare la questione riguardante il debito del Comune di Cerignola nei confronti di SIA, 4 milioni e 400 mila euro richiesti all'ente dalla società consortile, che l'amministrazione metta vorrebbe pagare con un corposo sconto. Il Comune riconosce arbitrariamente a SIA un debito pari a 2 milioni e 700 mila euro, dicono dal PD, e propone alla società di sottoscrivere un accordo transattivo nel quale la suddetta cifra di 2,7 milioni di euro verrà pagata in 60 mesi, cioè 5 anni, con una rata mensile di 45 mila euro. Una cifra ridicola che non serve a pagare neanche lo stipendio di due operai, commentano idem con il consigliere Teresa Cicolella. In pratica ha proposto attraverso una delibera di giunta un accordo transattivo, un accordo che prevede l'estinzione totale del debito, un nulla a pretendere da SIA, con però il riconoscimento solo di parte di questa debitoria, 2 milioni e 700 mila euro, praticamente facendo venire meno delle somme, una liquidità importante a SIA, utile a pagare i fornitori, ma soprattutto di stipendi dipendenti. Ora questo accordo è al vaglio del Tribunale che mi auguro esprima una parere sfavorevole nel merito. Una problematica, quella della riduzione della debitoria, che potrebbe quindi dare il colpo di grazia a SIA, che, come ricordano dal PD, attende già il giudizio del Tribunale rispetto alla procedura di concordato preventivo in continuità a causa della disastrosa situazione finanziaria dell'azienda. Situazione non ignorata dalla Guardia di Finanza, che da mesi sta conducendo un'indagine su un possibile fallimento indotto della società di raccolta del bacino Foggia 4, così come non passerà in sordina il piano economico della società, punto sul quale il centro-sinistra, la vigilia del Consiglio Comunale, annuncia battaglia. Seppure in piena difficoltà, Franco Metta dovrebbe avere i numeri per garantire, se non il futuro di SIA, almeno la prosecuzione dell'avventura civica.